Dal primo rapporto sulla filiera della sicurezza in Italia, realizzato dal Censis, emerge che i reati sono in calo, ma la gente ha paura. Nel 2017 i reati denunciati sono stati il 10% in meno rispetto al 2016 e gli omicidi si sono quasi dimezzati in 10 anni, ma nonostante questo c'è un senso generalizzato di insicurezza e il 31,9% delle famiglie italiane percepisce il rischio della criminalità nella zona in cui vive. E il 92,5% degli italiani blinda la propria casa, dalle inferiate alle luci accese quando si esce di casa per difendersi da ladri e rapinatori. I più favorevoli al provvedimento sarebbero le persone menostruite, gli anziani, il 41% degli over 65. Sempre in base ai numeri, la capitale del crimine per reati denunciati è Milano, al primo posto con 237.365 reati commessi nel 2016, il 9,5% del totale. Poi c'è Roma con 228.856, il 9,2%, Torino con 136.384 pari al 5,5% e Napoli con 136.043. Il capoluogo lombardo resta in vetta anche per un'altra graduatoria, quella che considera l'incidenza del numero dei reati in rapporto alla popolazione. Con 7,4 reati denunciati ogni 100 abitanti, Milano primeggia, seguita da Rimini con 7,2 e Bologna 6,6. Poi Torino e Prato, entrambe con 6 reati ogni 100 abitanti.